Musica Buongiorno, sono Francesca Rubettino, presidente Musicami. Siamo oggi a Carlopoli in occasione della Festa della Musica 2018 promossa dal Mibact. Come associazione abbiamo sposato questa iniziativa insieme all'associazione New Day di Soveria Mannelli e al CSM di La Mezzaterme, nello specifico l'area territoriale del Reventino diretta dal dottore Antonio Lucchino. Siamo qui per festeggiare la musica con i pazienti del CSM che ormai dall'ottobre 2016 sono costantemente coinvolti e impegnati in un laboratorio di musicoterapia. che ci ha portato alla nascita di un ensemble musicale fatto proprio dai pazienti. Noi speriamo che questa giornata di oggi sia la celebrazione di quanto fatto finora e uno stimolo a continuare questo progetto e ingrandirlo per quanto possibile. La giornata di oggi inoltre ci dà la possibilità di presentare ufficialmente un importante progetto realizzato sempre da musica in collaborazione con la Fondazione Nel Cuore che coinvolgerà due istituti comprensivi, quello di Soveria Mannelli e il Domilani di La Mezzaterme. È un progetto ambizioso che dura due anni e che darà alle scuole tutta una serie di attrezzature sia elettroniche che strumentali e metterà a disposizione sia dei docenti che degli alunni, dei professionisti che li aiuteranno a lavorare con gli alunni con BES, cioè bisogni educativi speciali. Grazie.